Da 30 anni, Telefono Azzurro tiene accesa una luce per i bambini e gli adolescenti vittime di abusi e maltrattamenti. Attraverso l'19696 e la chat, ascolta le richieste di aiuto, interviene nei casi di emergenza, fornisce assistenza psicologica alle vittime. Aiutaci a tenere sempre accesa questa luce. Cerca la piazza più vicina a te su riaccendilazzurro.it. Il 19 e il 20 novembre, viene a prendere una candela di Telefono Azzurro. Riaccendi l'Azzurro, a difesa dei bambini e degli adolescenti. Grazie a tutti.